musica 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 ogni acrobazia è stata fatta da professionisti in aree liberi dal traffico senza mai creare fastidio e pericolo per nessuno non imitate e guidate sempre con prudenza oh sono sul mio canale sono hyperboy ma fai quello che vuoi sta buono sta buono adesso mi tocco i coglioni perchè vaffanculo ma niente ok fammi toccare 1 2 3 ma che cazzo di sparo ma non vedo la non vedo un cazzo lo vedo non vedo non vedo non vedo non vedo fammi lavare un braccio ultima penna musica 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 Bene, io sono a posto Fa le scintille? Eh, fate il video, raga! No, questo non lo metto, è meglio io! Io metto tutto! No, fra, ti denuncio! Va bene! Grazie a tutti!